A volto coperto dalla mascherina chirurgica sono entrati in banca, hanno sequestrato il direttore ed infine si sono fatti consegnare 60.000 euro, una rapina che è stata messa a segno ieri pomeriggio alla filiale del credito cooperativo di Marciano della Chiana. Qui due uomini sono entrati vestiti da cantonieri ma ad un certo punto hanno estratto un taglierino e minacciato il bancario chiudendolo in una stanza e costringendolo a consegnare tutto il denaro in contanti presenti in cassa. Infine la fuga su un'utilitaria bianca, non è chiaro se a bordo vi fosse un terzo uomo, il palo o se due banditi abbiano fatto tutto da soli. L'allarme è scattato attorno alle 16.30 quando il direttore è riuscito a liberarsi dallo sgabuzzino della filiale. Ci hanno chiesto aiuto del cellulare, un ragazzo qua dietro, che le occorreva il cellulare perché il direttore era legato in bagno. Sull'accaduto adesso stanno indagando i carabinieri, al vaglio dei militari, anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. La filiale in questione si trova a lungo via Cassia, a pochi metri di distanza da dove fino a poco tempo fa si trovava la filiale del Monte dei Paschi di Siena, che poi a seguito di alcune azioni criminali ha preferito abbandonare e lasciare solo uno sportello automatico, proprio quello che lo scorso 22 aprile era stato fatto saltare in aria con l'acetilene. La preoccupazione c'è sinceramente, qui in questa zona le banche sono martoriate proprio, sinceramente sì, c'è da aver paura.